questo è il fondo del mio primo cassetto adesso facciamo i laterali e i posteriori purtroppo come nello scorso video mi si era bruciata la sega circolare adesso devo tagliare questi pezzi di legno ma purtroppo con la sega nastro la luce che c'è tra la struttura e la lama non riesco a tagliare una larghezza così usare un altro attrezzo il seghetto a pendolo non ricordo il nome esatto è questo e devo farmi andare bene questo perché comunque l'altro sono sprecherai un sacco di legno quello che vi dicevo prima la luce che c'è qua da questo a questo non mi permetteva di tagliare la misura che volevo fare e quindi adesso rifiniamo questo taglietto proviamo a pre assemblare il primo cassetto non sembra male queste linee le ho tirate e adesso con il trapano farò i buchi per gli inviti delle viti giustamente perché sennò quando si vado dentro con la vita è autofilettante ma finì che il legno si spacca la luce di legno di legno non combattuto può essere un sacco di legno alle persone conoscuie di legno della tante precedenti le rugo di legno che fanno il legno la legno la legno Il nostro corso gratuito è gratuito www.mesmerism.info allora il cassetto è assemblato adesso arriva una parte un po' più difficile capire se tutte le misure che ho preso vanno bene per qua sotto adesso vediamo sto studiando le guide che ho preso per i cassetti facendo questo lavoro qua c'è una linguetta io faccio così e sfido via questo pezzo questo pezzo lo devo montare a pelo del cassetto in questa posizione così in questo pezzo qua lo devo fissare in questo punto per avere l'estensione massima di uscita del cassetto ho messo questi due pezzi qua perché quindi qua c'ho la guida non vorrei che si piega nel mentre molto l'altra tanto vediamo se ci sta cassetto e guide bene bene con le misure ci siamo le due guide le ho montate adesso dobbiamo vedere se riesco mentre il cassetto e se si muove avanti indietro primo cassetto del tavolo l'abbiamo costruito ed iniziano a metterci dentro manca la maniglia giustamente non sono riuscito a fare bello a filo adesso per aprirlo non fino alla mano sotto ora i video che ho comprato vi dico la verità sono un po delicate in una di questa guida qua mi si sono rotte e sfere all'interno o meno quello che tiene le sfere con la pinza questa sono riuscito a rimetterlo a posto ho dovuto mettere dei spessori perché se no non ci stava però funziona 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 come avete visto sono andato al tecnomat perché un mio iscritto Gianca di Milano Beach mi ha detto che ci sono le guide dei cassetti al tecnomat e costavano molto molto meno come avete visto le ho comprate costano 2 euro e 79 adesso non mi ricordo dalle immagini lo vedrete e sì non sono come quelle di amazon sembrano fatte un perlino male queste cioè perlino male sembrano meno curante adesso vi faccio vedere questa è quella che ho comprato su amazon vi ricordo che ho speso 13 euro per comprare quattro guide e con 9 euro ne ho comprate 6 di guide direi molto meno ne ho comprate altre perché nei prossimi arredi del mio laboratorio mi serviranno altre guide dobbiamo aprire una giusto per vedere come sono sinceramente che sia l'era fatta meglio o fatta peggio non importa mi serve per fare i miei lavori quindi vanno alle ciance e mettiamoci subito al lavoro per finire i tre cassetti montarli e poi per iniziare altri lavori per questo tavolo perché poi devo iniziare con gli altri arredi profondità 32 come l'altro cassetto meno male che prendo sempre due o tre volte le misure perché avevo sbagliato di quasi mezzo centimetro musica Grazie a tutti.